Arrivano le lettere ATER, gli esercenti dei dieci negozi da mettere in vendita. Passo in avanti per l'operazione volta a ricavare fondi per la ristrutturazione del patrimonio ATER in città. Da oggi i commercianti che ricevono l'avviso di prelazione avranno 20 giorni di tempo per rispondere. De corso il termine previsto dalla normativa, sarà pubblicato il bando che è atteso per metà giugno. La decisione di mettere in vendita i negozi del centro storico era stata ratificata nel corso del Consiglio di Amministrazione. Dopo l'approvazione della perizia è stato quindi deciso di indire l'avviso pubblico che prevederà anche un diritto di prelazione per gli attuali affittuari. I dieci negozi che saranno messi in vendita sono quelli situati principalmente nell'area dei portici di Corso Video. I dieci negozi che saranno messi in vendita ricadono sul perimetro della parte nord di Corso Video, via Barbato e via Ciofano. La valutazione fatta dall'ATER si aggira sui 1700 euro al metro quadrato per i negozi e la metà per le cantine. Naturalmente chi lo vorrà potrà mantenere il contratto d'affitto alle stesse attuali condizioni anche con i nuovi proprietari. Oggi sono partite le lettere per la prelazione e subito dopo si va avanti con il bando. Annuncia il subcommissario ATER, Aldo Milan, che sta mettendo mano di concerto con i CDA anche all'ex mobilificio Scipione, alle palaziene di Fratelli Angeletti, non a caso ricavato della vendita dei negozi, sarà utilizzato per la ristrutturazione e la manutenzione di mobili che ricadono sul territorio comunale di Sulmona. Grazie.